su Starcraft 2 siamo su Girotone delle E e i due giocatori che si scontrano sono due player coreani di veramente primissimo livello ovvero Teja Innovation Innovation è stato più volte diciamo con Earth of the Swarm in finale nel GSL e Teja ha praticamente vinto di tutto è uno di quei giocatori che quando è in giornata veramente è imbattibile quindi non si apre proprio dire chi dei due vincerà questo game questi replay che vi sto facendo vedere sono dei replay presi un po' random dalle finali del VCS giocati questo novembre alla Blitzcon va bene il Terra contro Terra non è un matchup che apprezzo particolarmente un matchup dove l'early game secondo me conta un po' di più rispetto al Terra contro Protoss e il Terra contro Zerk non fraintendetemi ovviamente tutte le partite passano per l'early game però almeno per quel che mi riguarda per quello che ho visto e anche giocato spesso e volentieri ad esempio prendete come esempio appunto il Terra contro Zerk fate un Reaper magari ne fate un altro fate Sealion andate a fare content del Creep quantomeno diciamo le utilizzate come trampolino di lancio per poter avere magari quelle tre basi andare a pressare poi con i Marine sul Creep verso 12 minuti con le Medivac e tutto il resto e quindi diciamo l'early game un po' come fase di transizione per arrivare in modo diciamo abbastanza buono nel mid game invece quando si parla di Terra contro Terra l'early game è un particolare momento della partita dove effettivamente già si può portare a casa la partita basta veramente un timing sballato oppure una decisione presa male per ritrovarsi magari la base senza difese ed ecco l'infilata di 4 Helio che brucia 10 SCV la Banshee che arriva 30 secondi prima che si finiscono a Toro che è Scorreven e che ci porta via 5 Marine e magari 6 SCV e quindi le cose si possono complicare notevolmente quindi è un mashup veramente difficile nell'early game quando i due giocatori decidono entrambi di giocare aggressivi questa partita sarà sicuramente giocata in modo aggressivo perché entrambi i giocatori sono partiti di gas prima della Rax e la Rax è stata messa a 13 non a 12 mettere la Rax a 13 vuol dire non tagliare la protezione di SCV ma rischiare qualcosina in più contro i Reaper io solitamente quando sono in ladder e decido di partire con gas a 11 metto la Rax a 12 perché grossomodo quando il Reaper avversario arriva in base qualora insomma arrivi io grossomodo ho già un Helion quasi che sta per uscire oppure il Reattore che sta per essere ultimato se decido di andare di Reattore oppure magari già qualche Marine più che sufficiente per counterare il Reaper avversario in questo caso quindi entrambi i giocatori decidono di posticipare un po' la protezione dell'unità per avere però una macro un po' più pulita entrambi i giocatori vanno di Marine di Helion se non che per quanto riguarda Innovation c'è una decisione abbastanza interessante cioè quella di fare un Reaper un Reaper fatto da una Rax che però viene costruita dopo una raffineria diciamo una scelta coraggiosa e quantomeno strana perché solitamente si fa una raffineria prima della Rax per accumulare gas e fare una tech o a media di acqua banshee grossomodo diciamo le due strade percorribili sono quelle in questo caso Innovation decide di fare Viking Viking praticamente a scatola chiusa nel caso senza ancora avere un'idea di quello che sta facendo Teja qua Teja commette una leggerezza perché blocca bene la rampa con i Marine in posizione però si scorda di far diciamo di non far passare il Reaper qui mettendo delle unità il Reaper muore sicuramente morirà qua ci sarà una Helion no ok non c'è quindi addirittura il Reaper si salva incredibile ma vero però ecco quanto basta per vedere tutto a questo punto il buon Innovation sa che sta arrivando un drop di Medivac questo spazio porto non aveva il modo tecnologico e quindi è assolutamente scontato viene fatta una difesa antiaerea cioè un Viking buono contro le Medivac perché quantomeno ha qualche cosa che focussa la Medivac la Medivac è il perno dell'attacco nell'irre game spesso e volentieri sbagliando si può andare a focussare i Marine sbagliatissimo perché comunque se i Marine fintanto c'è la Medivac sono fortissimi nell'early game stiamo sempre parlando dell'early game quindi qualora ovviamente è possibile focussare la Medivac sarebbe l'idea migliore perché a quel punto il resto quello che rimane a terra diventa cari da macello il centro di comando viene messo a 6 minuti e 20 in grosso modo vediamo un po' anche quest'altro si quindi entrambi lo mettono praticamente tra 6 minuti e 10 6 minuti e 20 tra l'altro Innovation si difende molto bene e non prova nemmeno a droppare Teja va bene quindi Innovation c'è un asset un po' più difensivo Teja ha provato un asset un po' più offensivo senza però andare diciamo in strike ecco cioè senza fare nessun danno o cose di questo tipo la partita comunque sia è ovviamente strabilanciata in questo momento alla fine non cambia niente l'unica cosa che è cambiata tra i due anche a livello di composition è l'aver fatto una Medivac per quanto riguarda Teja e un Vaking per quanto riguarda Innovation quindi diciamo che se poi le due armate si andavano a scontrare grossomodo le due cose si potevano compensare anche perché poi il Vaking non è un'unità in questa fase offensiva la utilizzi per difenderti quindi se Teja va ad attaccare molto probabilmente c'è anche la possibilità di utilizzare l'SCV per attaccare i danni notare che in tutto questo Innovation non ha mai stoppato neanche credo per un secondo a giudicare il numero di SCV o quantomeno ha stoppato veramente pochissimo la produzione di SCV che sono 25 quindi comunque sia nel momento in cui questo centro di comando andrà a posizionarsi ci sarà già un numero di SCV comunque sia discreto ecco vengono quindi tolti guardate qua che precisione esattamente tanti SCV quanto basta insomma per portare diciamo gli SCV in questa line a 16 ovviamente poi c'era un SCV che era tornato dalla costruzione di un deposito e quindi sono saliti di un'unità però anche quello là continua a costruire quindi siamo sempre sul 16-11 ricordatevi sempre che quando si va ad estrarre le risorse l'idea migliore è avere 16 SCV per Mineral Line così l'income è ottimale diciamo che potete tenerne di più però non ha senso tenerne di più di 16 perché tanto l'income che ne otterreste è veramente pochissimo rispetto a quello che otterreste mettendo gli 8 SCV aggiuntivi in una Mineral Line a parte cioè questa va bene i due giocatori decidono di fare Mac è evidente da ovviamente le due fabbriche e da il Blue Flame che abbiamo imparato piccolo Psylock per Innovation strano solitamente non si vedono Psylock neanche per pochi secondi a questi livelli però a volte capita anche a loro quindi insomma buon per noi perché siamo scusati quando ci capita tanti Viking i Viking sono un'unità fondamentale nel Terran contro Terran perché comunque sia tenere il controllo dei cieli in un matchup dove c'è tanta mech vuol dire tanto vuol dire tanto perché comunque sia a quel punto basta veramente anche un tank per fare la differenza i Viking che poi sono unità estremamente versatili perché possono oggettivamente anche essere utilizzati a livello ground certo non sono fortissimi perché comunque sia non hanno un'edifese eccezionale però vi garantisco che hanno un attacco notevole quindi comunque sia ad esempio anche contro Alien fanno la loro figura qua viene provato probabilmente un drop un drop che spero verrà fatto in un punto dove ecco bravo Teja fa un drop dove diciamo Innovation non vede c'è il blue flame e qua credo proprio che mangerà un bel po' di SCV qua vediamo se cadranno le Viking ecco qua i Viking scendono e quindi vanno a difendere tranquillamente questa mineral line anche se a questo punto il numero di SCV di Innovation è calato un po' rispetto a quello di Teja va bene in questa mappa diciamo che molto probabilmente il peggio che può succedere è ritrovarsi con dei tank diciamo in questa posizione e delle unità che danno visuale da questo lato perché a quel punto il rischio è di rimanere con i rinforzi tagliati fuori con le strutture che poi subiscono danni in questo momento Teja ha un notevole vantaggio su Innovation vengono addirittura sparati due DDP e qua Teja fa un altro piccolo errore perché praticamente l'armata di Teja che secondo me era un po' più forte a livello di Air viene spostata in un punto dove i DDP del Revan avversario funzionano bene mentre i suoi no come vedete sono ancora completamente carichi quindi da questo lato Innovation ha fatto un po' meglio devo dire una cosa cioè Teja ha deciso comunque se di ingaggiare perché molto probabilmente aveva intuito che la sua armata era più forte in quel frangente infatti nonostante due DDP sono veramente un vantaggio enorme è riuscito a vincere non solo a livello ground ma soprattutto a livello air viene viene fatto un drop di che fa malissimo in questa prima parte di game e gli SCV persi sono veramente troppi la MAC a questo punto di Innovation credo che sia diciamo compromessa in modo quasi irrecuperabile e Teja addirittura riesce a mettere un ottimo riesce a prendere un ottimo posizionamento con questi tank i viking che scendono a terra possono dare effettivamente un bel po' di aiuto arrivano due tank aggiuntivi c'è già una terza base che sta per essere liftata il numero di SCV non è alto stiamo su 50 ma va bene nel terra contro terra giocati così aggressivi ci sta tutto e quindi niente dire proprio che Innovation ha perso questa partita senza se senza ma è solo questione di tempo insomma perché di AGG tra l'altro come potete vedere ci sono soltanto se posizionarsi qua sopra fa malissimo perché da questo momento in poi tutti i viking che escono possono essere facilmente uccisi addirittura qua decide di fare qualcosa di diverso cioè di scendere a terra ed andare a focus are gli SCV questi viking forse non sono full life però il dps che mettono in campo è talmente esagerato che gli altri viking cadono velocemente senza contare che i viking hanno bonus contro corrazzate quindi quando si vanno a scontrare viking contro viking veramente cadono ad una velocità impressionante perché hanno un dps veramente alto squadra mi è stato messo in posa volevo vedere dove erano i viking eccoli qua ecco qua il dps 14 due attacchi velocità arma 2 comunque sia tantissimo insomma si parla di 28 danni a livello base comunque va bene da gg innovation da direttamente gg neanche ci prova però era giusto così era tagliato fuori non poteva più fare nulla il numero di srcv era bassissimo non poteva più minare in terza la macro era compromessa non c'era molto da fare allora questa partita sicuramente ci dà un'idea di come si gioca a mech in modo dinamico in modo flessibile ecco tanti giocatori anche tra l'altro grandmaster tendono a fare una mech molto statica cioè tu campi in base ti fai questi tank ti fai le tue le tue unità quando c'è bisogno di mettere una terza ha già un numero sufficiente di tank ha già un numero sufficiente di tank per uscire e difenderla comunque sia si tende a 200 psi con partite spesse e volentieri molto noiose difficili da giocare anche per quanto riguarda i nervi in questa partita i due giocatori sfruttano la versatilità delle helion dei viking nei primi minuti per potersi scontrare quindi diciamo saltare il problema della stazionalità dei tank e grazie a dei drop secondo me ben assestati e ad una macro più pulita te già è riuscito a sconfiggere e andare a colpire innovation nel momento opportuno quindi anche qua è importante far vedere come i timing di attacco vogliono dire molto e come questo sia un matchup dove il numero dei scv e l'economia non è importante quanto effettivamente il game sense il conoscere i metagame perché poi non è una questione di attacco di timing è una questione di capire come e quando attaccare di capire se c'hai la superiorità dell'armata e via dicendo come vi dicevo voi pensate a un terra contro il zerg e l'early game e tutto il resto se voi arrivate a giocare a un terra contro il zerg e siete a meno di 14 a 14 minuti avete 50 scv e ancora terza base non messa grosso modo avete perso perché perché diciamo che non è così che funziona il metagame in questo caso diciamo un'aggressività una guerra di posizione il riuscire a mangiare un qualche scv vuol dire molto e quindi il fatto di avere qualche scv e anche una terza messa un po' più in ritardo rispetto a quelli che sono i timing degli altri matchup non vuol dire assolutamente nulla ecco quindi sfruttate tanto l'1-1-1 cioè racks, fabbrica e spazio porto per quanto riguarda il terra contro terra perché veramente ragazzi questo è un matchup dove questa particolare build order lavora veramente tantissimo e molto bene va bene spero che anche questo video vi sia piaciuto spero che la partita vi sia piaciuta io continuerò a farvi vedere partite di professionisti questa settimana non c'era nessuna partita per quanto riguarda giocatori della comunità quindi mi sono buttato su quest'altro genere di game game che comunque si rimangono fondamentali perché come ho detto noi giocatori che andiamo in ladder a giocare è bene che conosciamo queste tattiche perché poi sono quelle effettivamente più efficaci quelle che ci permettono di avere gli strumenti per vincere le partite perché non solo ci danno delle build order ma ci fanno anche capire come funzionano certi matchup quali sono i timing d'attacco e il perché spesso e volentieri i professionisti utilizzano certe unità piuttosto che altre vi auguro buona giornata e vi ringrazio per la visione di questo video ciao ciao